come lo zoom mickey com'è lo zoom e questa schiena auto opera questo qua così i zoom e dall'altra invece di non ti provo non ti provo vai pure mickey divertirti non ti provo nemmeno no no vai mickey tu hai più coppia ai boss eh ma un copertone di merda e tu veramente con quella marmitta lì oh non ti provo non ti provo un uovo un uovo guarda che uova cosa fa guarda che va poi da fermo noi non ci muoveremo poi ma guarda per terra sembra che ci sono delle ragnatele perca voi hai ragione o sono delle ragnatele no no ci sono parane parane zero fa solo girare il motore inutilmente grazie 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 grazie